La Lombardia diventerà zona gialla, lo ha annunciato ufficialmente il Presidente della Regione Attilio Fontana tramite un video pubblicato su Facebook. Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Questa mattina il Ministro Speranza mi ha informato che, come per le precedenti volte, venerdì firmerà l'ordinanza, sabato sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e domenica entrerà in vigore. Il trend dei numeri in Lombardia si conferma in diminuzione, sia per quanto riguarda la circolazione dei virus, sia per i ricoveri nei reparti ordinari ed intensivi. Un risultato raggiunto grazie ai comportamenti virtuosi tenuti da tutti i Lombardi, che ancora una volta ringrazio. Esorto tutti a continuare su questa strada, questa strada di responsabilità quotidiana che consente di tenere sotto controllo il virus. Forza Lombardia! La didattica a distanza non favorisce la partecipazione degli alunni con disabilità. Tra aprile e giugno 2020 circa 70.000 studenti con disabilità, oltre il 23% del totale, non hanno partecipato alle lezioni online e il dato raggiunge il 29% nelle regioni del Sud Italia. Sono i risultati del rapporto dell'Istat l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, anno scolastico 2019-2020. Secondo il report, una scuola su quattro è carente di postazioni informatiche per alunni con disabilità e se quest'anno la DAD ha ridotto la presenza di questi studenti, in generale le politiche di inclusione attuate negli anni hanno favorito un progressivo aumento della partecipazione. Nell'anno scolastico considerato, gli alunni con disabilità che frequentano le scuole italiane sono quasi 300.000, oltre 13.000 in più rispetto all'anno precedente, con un incremento percentuale ormai costante negli anni del 6%. Secondo l'ultimo studio della Commissione UE, volto a misurare la partecipazione delle donne nell'economia digitale, in Italia solo il 14,8% di donne lavora come specialista nel settore delle telecomunicazioni, contro una media europea del 17,7%. Nella graduatoria UE, che considera 12 indicatori, dall'uso di internet alle competenze specialistiche, il bel paese si piazza a quart'ultimo con un punteggio di 40,7, considerevolmente più basso rispetto alla media europea di 54,5 punti, seguito solo da Grecia, Romania e Bulgaria. In cima alla classifica si trovano i paesi nordici con Finlandia, Svezia e Danimarca sul podio. L'83% degli italiani desidera che l'Unione Europea ridistribuisca i fondi agricoli per favorire la transizione verso un sistema di allevamento senza gabbie. È quanto emerge da un sondaggio diffuso dalla coalizione italiana End the Cage Age, che esplora le attitudini dei cittadini europei riguardo l'impiego di gabbie negli allevamenti dell'UE. Secondo il report, il 56% degli intervistati è convinto che l'Europa non stia facendo abbastanza per garantire il benessere degli animali in allevamento, mentre l'84% ritiene che l'utilizzo di gabbie sia crudele. L'indagine svolta tra settembre e ottobre 2020 è stata realizzata da YouGov e commissionata da Compassion in World Farming, Animal Equity, Wierptofen International, Human Society International Europe, WeMove Europe e World Animal Protection Netherlands.